Salve a tutti amici di CDK, qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 19 ottobre dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che CDK è da proporre. Se invece volete conoscermi meglio potete venirmi a seguire sul mio canale principale di Twitch per tanti giochi come Overwatch, Fall Guys, Among Us, Overcooked, Tetris 99 with Bunny Go Vice, Genshin Impact e tanto altro. Quindi iniziamo con il video. Primissimo gioco gratis che presentiamo ancora per un giorno, quindi dovete sbrigarvi e il secondo capitolo di Sonic che sta dando Steam gratis. Quindi io assolutamente vi straconsiglio di riscattare questo gioco ora che potete e averlo nella vostra libreria e finalmente giocarlo se non l'avete mai fatto. Mi raccomando però solo un giorno, quindi sbrigatevi. Altro giocone ancora disponibile gratis sul sito della EA e dovete registrarvi, quindi mi raccomando che qua correte. E Nights into Dreams, un gioco che io per esempio da piccolina non ero mai riuscita a giocare ma finalmente lo stanno dando gratis, Filippino, mentre lo potrò provare e non vedo l'ora. Quindi mi raccomando, riscattatelo anche voi. Altro giocone gratis che invece stanno dando su Epic Games è Kingdom New Lands. Un gioco che mi sta alquanto interessando perché è un gioco con una grafica bellissima in pixel ma soprattutto è di avventura e strategia in 2D. Sembra molto 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 carino, quindi nel caso giocatelo e provatelo anche voi. Altro gioco che stanno dando gratis è un giocone che ho già portato in passato su Twitch ed è Amnesia. I'm a machine for picks. Io assolutamente vi straconsiglio di giocare. Io per esempio non riesco a reggere gli horror perché mi spavento tantissimo ma questo l'ho apprezzato un sacco, non lo state gli spaventi. Quindi anche qua ve lo straconsiglio di giocare. Per i giochi in uscita invece vi annuncio il gioco che uscirà domani che io domani stesso porterò in live su Twitch. Abbiamo deciso insieme ai miei moderatori ed è Amnesia Rebirth, il nuovo capitolo di Amnesia. Quindi nel caso vi consiglio anche qua di giocarlo. Magari passate dal mio canale Twitch e lo vediamo e lo ridichiamo un po' insieme. Invece sempre domani uscirà Drone Swarm, un gioco di strategia e d'azione sci-fi che sembra molto carino e interessante. Stavo vedendo dei gameplay in questi ultimi giorni. Sembra carino e non è neanche male, anche perché sul nostro sito i CDK è super scontato. Quindi se vi interessa nel caso compratelo da noi. Invece il 21 ottobre uscirà Scourge Bringer. Questo è un altro giochino che abbiamo già visto un po' di trailer e un po' di gameplay. Ed è anche qua un gioco indie d'azione e d'avventura roguelike. Anche qua sembra molto carino e la grafica sembra molto bellina. Quindi se vi interessa nel caso anche qua compratelo e giocatelo. Un giocone invece che uscirà il 28 ottobre è Ghostrun. Vedo che già un po' di persone ne stanno parlando, lo stanno giudicando abbastanza positivamente. E visto anche dai gameplay anche a me interessa e piace un botto. Quindi nel caso anche qua se vi piace compratelo. Anche perché ripeto sul nostro sito anche questo è super scontato. Per i giochi invece qua super 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 scontati abbiamo Desperados 3. Scontato del 68% ed è un gioco di strategia e stealth in stile western. E direi che lo stile è molto 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 carino e a me intriga alquando. Quindi nel caso se vi sta piacendo il trailer potete comprarlo scontato. Altro gioco che io non conoscevo però scontatissimo e costa poco meno di 10 euro è Senren Banca. Che vedo che è una visual novel in stile anime insomma. Ma se vi piacciono comunque le visual novel e vi piace anche questo stile grafico. L'entrato potrebbe essere questo il gioco che fa al senso vostro. Altro giocone qua super scontato sempre in stile anime è Hazel Lane Crosswave. Se siete appassionati del mondo degli anime sicuramente lo conoscete questo gioco. Ma se non avete mai avuto l'occasione di provarlo e di giocarlo assolutamente dovete approfittarne ora. Perché è super scontato dell'83%. Quindi accorrete mi raccomando. Ultimo giocone super scontato è Super Hot Mind Control Delete. Che io questo capitolo non conoscevo perché avevo già giocato Super Hot. Ma non questa versione. E qua anche sul nostro sito è super scontato. Ha praticamente 3,50 euro. Quindi se vi piace questo stile di gioco assolutamente prendete. Noi con quest'ultimo gioco concludiamo il video del 19 ottobre. Io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo nella prossima presentazione di giochi. A presto, ciao ciao!